Genova stasera vuole premiare uno dei più grandi musicisti, Rock, Legend of Rock, Film Award 2015, Ken Hensley, consegna il premio Miss Music Italia. Mi lascio a questo straordinario musicista. Grazie. Rock, that's probably okay. And then it says best keyboard player. I'm not sure about that. I have a lot of good friends that play keyboards and like Rick Waideman and people like that that I consider to be the best keyboard players. But since you given me this, I say thank you. Thank you. Grazie a tutti qui per questo evento, a tutti i FIM, perché questo è un po' lavoro, abbiamo fatto tutto questo, e tutti i ragazzi qui lavorarono molto forte, e ho davvero apprezzato tutto quello che avete fatto, e tutti i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi che non si tratta di un'altra parte, e anche voglio dire questo, e voglio che veramente capire cosa mi racontano ora, se non fosse per persone come voi, all over il mondo, non sarebbe qui oggi, non avrei un career, quindi grazie a tutti, per aver dato 50 anni di rock'n'roll, ho? Sì, sì, sì. Do I have to play now? Maybe, oh no. If you want. And I want you all to know something. Two hours ago, around half past nine, I applied for the job of keyboard player with Wonderworld. And they gave me the job. And so I'm proud to be sitting here with my guys. And we decided that it was such a great occasion, we changed the name to Live Fire, just for now. Live Fire, just for now. Live Fire! Live Fire! Live Fire! Live Fire! Live Fire! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.